Invasione di matricole all'Università di Camerino ha preso infatti il via ieri il tradizionale appuntamento con le giornate di ambientamento per le matricole. Iniziativa promossa dal servizio tutorato di Unicam per facilitare l'inserimento dei nuovi studenti nella realtà universitaria e fornire loro gli strumenti utili per affrontare senza problemi gli studi. Sono stati oltre 800 le ragazze e i ragazzi che hanno partecipato agli eventi presso l'auditorium Benedetto XIII di Camerino e presso il polo di San Benedetto del Tronto avendo scelto per il loro percorso universitario uno dei numerosi corsi di laurea attivati presso le due sedi. A dare il benvenuto in Unicam alle nuove studentesse e ai nuovi studenti è stato il rettore Claudio Pettinari insieme alla delegata per il tutorato Loredana Cappellacci e dal presidente del Consiglio degli studenti Riccardo Cellocco. Un'iniziativa estremamente utile secondo noi e per questo continuiamo ogni anno a organizzarla, ogni anno a migliorarla proprio perché i ragazzi appena arrivano possono avere tutte le informazioni necessarie e conoscere tutti i servizi e tutte le iniziative che Unicam mette loro a disposizione per iniziare al meglio il proprio percorso di studi. Questa accoglienza e questo seguirle poi durante il percorso continuerà anche nei giorni successivi, loro conosceranno tutti i servizi che il tutorato ma anche le altre attività, gli altri servizi di Unicam metteranno a loro disposizione, conosceranno i docenti nel pomeriggio, andranno più nel dettaglio sulla parte didattica, sul proprio percorso formativo, conosceranno i nostri impianti sportivi. Quindi diciamo tutto ciò che Unicam mette loro a disposizione, questo è un buon punto di partenza sicuramente. E quindi volevo augurare a tutti buon anno accademico e sappiate che Unicam sarà sempre al vostro fianco. Auguri. Il 16 ottobre le giornate di ambientamento si terranno nella sede di Ascoli Piceno ed il 20 novembre nella sede di Matelica. Il programma dettagliato e tutte le informazioni sono disponibili nel sito tutorato.unicam.it. slash iniziative